Musica Ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori con il nostro spazio dedicato ai messaggi elettorali a pagamento. Con noi il candidato al Consiglio Comunale di Civitavecchia alle prossime amministrative con la lista civica Rete dei Cittadini, Alessio Gatti. Ben trovato. Salve a tutti. Parliamo dei toni che sta assumendo questa campagna elettorale in vista della prossima tornata amministrativa che, lo ricordiamo, si svolgerà il 6 e 7 maggio. Sì, insomma, come ogni campagna elettorale qualche colpo basso c'è sempre. Però io spero che, o almeno l'invito che ho fatto al mio candidato sindaco già qualche tempo fa, e vedo che lo sta rispettando, è quello di non andare nella polemica sterile che invece appassiona tanto l'altro candidato concorrente, quello che insieme a lui ha la possibilità di arrivare alla vittoria, anche se non penso che poi la realizzerà. Io ho detto più volte, insomma, di lasciare perdere le polemiche personali, anche perché non appassionano la città, e la città vuole esclusivamente sentire parlare di progetti, di prospettive per lo sviluppo del territorio e della nostra città. Queste vicende, insomma, che sono successe negli ultimi giorni, anche qualche screzio sui manifesti, qualche cosa, insomma, del genere, noi la lasciamo stare, la lasciamo ad altri, noi parleremo di programmi come faremo oggi. Certo che le vicende che sono uscite sui giornali, anche nazionali, insomma, lasciano un po' perplessi anche la popolazione. Non tanto per quello che è stato detto del candidato del centro-sinistra, ma per le risposte che lui stesso ha dato. Nel senso che se fosse vero che Bechis, il vice direttore di Libero, abbia, insomma, tutta la documentazione che poi, so, che ha inviato o sta inviando alla vostra emittente, allora lì si tratterebbe di una dichiarazione falsa da parte del candidato sindaco del centro-sinistra, Tidei, che ha smentito quanto detto da Bechis. Io su questo non entro, perché a me delle proprietà di Tidei non interessa, però se fosse vero che le cose stanno come dice Bechis, allora io tocco un altro aspetto, che è il fatto che lui ha mentito, smettendo quello che il vice direttore di Libero ha riportato sulla cronaca nazionale. Ecco, però lei inizialmente stava dicendo anche parliamo di programmi, smettiamola con le polemiche, gli attacchi da una parte e dall'altra e dedichiamoci soprattutto a spiegare il perché della nostra candidatura ai cittadini. Ecco, entrando proprio nel merito, lei come candidato al Consiglio Comunale per la lista civica Rete dei Cittadini, quindi a sostegno delle larghe intese e del sindaco scente Gianni Moscherini, due domande in una. Uno, perché si è deciso di aderire alle larghe intese e secondo, quali sono i punti programmatici sia del programma appunto delle larghe intese che quello proprio della Rete dei Cittadini e di Alessio Gatti? Sì, allora, abbiamo deciso di aderire alle larghe intese perché, insomma, il periodo che stiamo vivendo, la fase storica che stiamo vivendo a Ciovecchia, ma nel nostro paese in generale, guardiamo infatti il governo, c'è un governo tecnico appoggiato sia da partiti di centro-destra che da partiti di centro-sinistra. Insomma, fatto sì che le nostre riflessioni ci hanno portato ad andare, insomma, su una coalizione di largo respiro perché arroccarsi sulle posizioni ideologiche che noi abbiamo dentro di noi, ognuno di noi viene, insomma, a una storia. Io vengo da una storia del partito comunista, democratici di sinistra, poi ho delito al PD, per cui, insomma, la mia storia è di uomo di sinistra. Però oggi la mia storia mi ha portato proprio a ragionare, come me e anche gli altri amici dei cittadini, a ragionare su quello che serve alla città. La città serve una classe dirigente preparata e coesa perché ormai il gioco delle parti, quello che dici tu è sbagliato a prescindere, non può più andare bene. Noi abbiamo la fortuna di avere in questo momento due grandi enti che la pensano allo stesso modo e che lavorano in simbiosi, l'autorità portuale con Pasqualino Monti alla presidenza e il comune con Giovanni Moscherini. Stiamo rinnovando il comune e auspico che Moscherini possa riconfermarsi sindaco perché questo lavoro che è partito da 3-4 mesi, cioè dopo la nomina di Pasqualino Monti, già sta portando i primi frutti. Il protocollo d'intesa che è stato firmato tra il comune e l'autorità portuale a novembre già ha dato i primi segnali a distanza di 4 mesi. Sono iniziati i lavori dell'abbattimento dei sili, una cosa storica, e quindi è partito il PRG portuale che è stato approvato nel 2003, cioè a distanza di 9 anni siamo riusciti a far partire il PRG. Tutta la trasformazione del porto che rilancia sia la parte commerciale e potenzia la parte croceristica. Questa è una cosa importantissima perché noi da questo sviluppo portuale, però legato molto alla città, possiamo veramente trovare quel volano per il lancio dell'economia. Purtroppo, dico purtroppo perché due enti al di là del colore politico, al di là delle amicizie tra chi le gestisce, dovrebbero sempre dialogare. Purtroppo è la prima volta che succede questo, perché altri in passato non si sono dimostrati poco capaci nel dialogare con persone che la pensano in modo diverso. Oggi abbiamo due persone che la pensano nello stesso modo, e quindi dobbiamo far tesoro di questa cosa, perché l'unione di intenti tra Autodità Portuale e Comune di Civile Vecchia è fondamentale in questo periodo, logicamente perché stiamo vivendo, come dicevamo prima, una fase di regresso economico. Però è fondamentale sempre. Oggi l'abbiamo trovato, io spero che resti il più possibile. Nei prossimi cinque anni con Gianni Moscherini al Comune di Civile Vecchia come sindaco e con Pasqualino all'autorità portuale, Pasqualino Monti. Poi stiamo gettando le basi anche per una collaborazione che vada avanti negli anni, perché domani non ci sarà più Moscherini. Quello che sta facendo Moscherini, a differenza da T-Day, che non l'ha mai fatto, è quello di creare una classe dirigente per il futuro. Adesso ci sono tantissimi ragazzi, trentenni, quarantenni, che collaborano con Gianni Moscherini, sono di questi, ma io sono una minima parte, perché c'è tante persone preparate, molto più preparate di me e competenti nel materia di sviluppo, che si stanno occupando, sono occupati del programma di Gianni Moscherini e alcuni collaborano anche con l'autorità portuale. Bene, questi ragazzi, oggi diciamo di mezza età, perché quarantenne insomma, però ancora un ragazzo a tutti gli effetti, sono tutti ragazzi che provengono dal centro-sinistra, dalla sinistra, ragazzi che provengono dai democratici di sinistra. Possiamo fare tantissimi nomi, ma non mi sembra giusto, insomma, tirare l'imballo, anche se in una città di 50.000 abitanti sappiamo tutti chi sono e quanto hanno fatto bene sia nel partito del centro-sinistra sia nella collaborazione di adesso con il sindaco Moscherini. Tante persone che hanno lasciato stare, hanno abricato perché veramente non se ne poteva più. Io sono uno di questi perché, insomma, sono uno di quelli che crede veramente che ognuno di noi può dare il piccolo contributo per creare un qualcosa di importante. Altri, come il sindaco, il candidato sindaco di Dei, pensa che lui possa gestire tutto da solo a sua immagine e somiglianza. Questo è una cosa che, diciamo così, denigra un po' il lavoro degli altri, specialmente di ragazzi giovani. Adesso vedo tanti giovani democratici che si sono avvicinati al partito. Io sono contento per loro che si sono appassionati alla vita politica, anche perché la politica poi, anche se tu non la segui, lei ti segue sempre. Nel senso che, io dico solo una cosa, spero che non abbiano alla fine le stesse pensieri miei, alla fine i stessi risultati, nel senso che grande lavoro, grandi sacrifici personali, di tempo, di risorse, con tanti risultati dal punto di vista personale, ma mai con un disegno organico. Perché l'importante era che il capo, cioè lui, rimaneva sempre al centro dell'attenzione e metteva, insomma, così, diciamo, un po' come diciamo una ciecchia, metteva il cappello su qualsiasi situazione. Purtroppo, negli ultimi dieci anni, ha portato al massacro il nostro partito. Vedi la caduta di Gino Saladini? La caduta di Gino Saladini è stata, c'è stata perché c'è stata una sua impuntatura che doveva fare per forza il presidente della società portuale. Logicamente, gli altri partiti della coalizione, i consiglieri comunali, non volevano questo. Hanno prima fatto saltare il Consiglio sul porto famoso nel 2006 e poi hanno sfiduciato Saladini. Saladini non ha avuto una sfiducia per il suo demerito, ma bensì perché dietro c'era troppo pesante, ingombrante, la presenza dell'On. Titei. Oggi, io penso che uno come lui, che ha 40 anni di istituzioni e 66 anni di età, io non dico che deve togliersi da mezzo. Mai detta questa cosa qui, però si deve mettere al servizio degli altri. Lui invece non lo fa e ancora oggi si ripresenta come candidato sindaco per riprendere in mano la città e il suo territorio. Io spero che i cittadini Civecchia non lo permettono questo, perché Civecchia ha bisogno di altro, di una minestra riscaldata come penso sia il suo programma. Ecco, prima di chiudere, un'ultima domanda per tirare un po' invece le somme di quella che è stata questa amministrazione che l'ha vista come consigliere comunale nel gruppo misto. Quali sono state le cose portate all'attenzione del Consiglio comunale che l'hanno soddisfatta di più? Io, innanzitutto, devo dire che sono entrato in Consiglio comunale e poi subito, appena fatto le elezioni, si è sciolto il mio partito e l'abbiamo aderito al partito democratico, allo capogruppo del partito democratico. E sono uscito lì per una vicenda che tutti ricordano, che è la vicenda di Via Pinelli. Una questione che è stata nata, un problema che è nato ai tempi del centro-sinistra e che Moschrini si è trovato sul tavolo con un sequestro di un palazzo. Moschrini si è adoperato per risolverlo. Io vedevo che il mio partito, invece di dire, anzi, davanti agli abitanti, diceva anche noi collaboreremo per risolvere il problema, invece poi quello che si è dimostrato, che il Consiglio comunale sono fuggiti e hanno strumentalizzato politicamente il problema. Lo abbiamo risolto. Oggi, a distanza di un mese dalle elezioni, forse per recuperare, perché pensano che la gente sia stupida, tirano fuori, fanno di far fuori, sempre dal solito noto, un documento che non è pervenuto però al Comune, solamente a casa di questo signore, e Tidei esce sul giornale e dice risolveremo noi il problema. Ma, scusa, ma quando c'era da parlare del problema, da risolvere il problema, dove stavate? Perché siete fuggiti? Perché mi avete messo in croce? Perché quel giorno mi hanno messo in croce veramente su questo aspetto. hanno costretto a me dare dimissioni dal Partito Democratico perché ho aderito a questa proposta, non avendo il Partito Democratico una proposta di partito. E quindi siamo andati su quanto proponeva l'amministrazione comunale, sono andato su quanto proponeva l'amministrazione comunale per risolvere questo problema. Questo è il mio modo di fare. Al di là delle cose, delle appartenenze, io sono uno che si è sempre impegnato, poi forse anche sbagliando, non è che dico che quello che dico ogni volta ho ragione, anzi, penso insomma di operare nel bene, però tutti possono sbagliare e io dico che sono uno che sbaglia. Io però lavorerò così, ho lavorato così nel passato e lavorerò nel futuro, sempre nell'interesse della città. Come altre situazioni che ci sono state, sono stato promotore della delibera dei parcheggi rosa, ho lavorato su molte altre questioni di tipo culturale, sportivo, di sviluppo della nostra città. Negli ultimi tempi, poi una volta che insomma sganciato dal Partito Democratico, ho anche sostenuto alcune situazioni che hanno sistemato gravi buche del passato, gravi errori del passato come il CPL. Il CPL noi ci trovavamo senza avere la proprietà del terreno e con l'imprenditore che faceva quello che voleva. Noi oggi abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo purtroppo speso altri sordi per colpa di altri del passato e abbiamo sistemato quella situazione diventando nuovamente proprietari e abbassando la concessione all'imprenditore, diciamo così, togliendo la parte in base al suo mancato pagamento della concessione. Cose importanti che secondo me hanno garantito il posto di lavoro a tanti, e anche per il futuro, e hanno gettato le basi per quello che verrà realizzato nei prossimi cinque anni. Cioè la pianificazione, la progettazione che ha fatto Moscherini in questi cinque anni, all'inizio criticata da me, è stata, su alcuni aspetti, su altri no, è stata una pianificazione importante. E qui abbiamo l'opportunità storica di ripetere quello che è successo al Porto. Nel primo mandato progettazione e pianificazione, nel secondo mandato realizzazione. Beh, cittadini di Civile Vecchia, spero che siano tutti, insomma, così, dalla stessa parte, con la stessa unità di intenti, cioè quella di riconfermare Moscherini, perché oggi, mettendo in campo quello che abbiamo progettato e pianificato, è anche iniziato in gran parte, riusciremo a uscire dalla crisi e dare, diciamo così, un sollievo all'economia locale, creando nuovi posti di lavoro e sgravando le imprese da tanti oneri. Bene, io la ringrazio per essere stato con noi, ringrazio anche i nostri telespettatori e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie. Grazie. Grazie.